Casse dell'Unidave, soldi delle rette degli studenti utilizzati come bancomat per pagare cure mediche ai familiari e altre società e quanto emerge dall'indagine Minerva condotta dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza dei Comandi di Chieti e coordinata dalla Procura Tiatina. Questa mattina sono scattati gli arresti per 5 persone, 3 in carcere e 2 domiciliari, tra le 18 indagate, 16 residenti tra Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana ed Emilia Romagna, 2 in Svizzera e Romania, accusate a vario titolo di peculato, riciclaggio, autoriciclaggio e abuso d'ufficio. Sequestrati preventivamente anche beni mobili ed immobili e denaro per un valore di circa 800 mila euro, sia in Italia che in Svizzera, Slovacchia e Malta. Togliere soldi, usare una delle 11 università, perché qualcuno pensa che sono tante, in Italia ci sono 11 università autorizzate dal MIUR. Utilizzare una di queste come lavatrice per riciclare denaro da mandare poi all'estero significa togliere a tanti studenti possibilità di futuro. Sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle dei carabinieri quindi è finita tutta la gestione dell'Università Da Vinci tra il 2015 e il 2018, arco temporale durante il quale il controllo dell'Ateneo è stato assunto dalla società slovacca SEVS, che si era giudicata il bando di gara emanato dalla Fondazione Università Gabriele d'Annunzio per trovare il socio privato dell'Università Telematica. Regista di tutta l'operazione è risultata ZL, queste le sue iniziali, componente del Consiglio di Amministrazione della SEVS, nonché socio della Edward Holding LTD, società di diritto Maltese, titolare delle quote di partecipazione al capitale sociale di numerosissime aziende attive nel settore della formazione scolastica universitaria. Nello specifico i soldi dell'Unidav, frutto per lo più delle rette pagate dagli studenti iscritti all'Ateneo Telematico, venivano prelevate mediante l'utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti e mediante la redazione di accordi, convenzioni e progetti del tutto fittizie mai realizzati. È stato un lavoro molto molto certosino, molto molto complesso, ovviamente, perché si parlava di svariate decine di milioni di euro. Abbiamo dato anche del materiale, secondo noi, di importanza investigativa alle autorità, soprattutto slovacche, perché tutto nasce con il controllo, l'ingresso all'interno dell'Unidav di questa università slovacca, di questo ente di diritto slovacco che si chiama SEVS, che negli anni passati aveva beneficiato di ingenti fondi strutturali dell'Unione Europea. Abbiamo chiesto all'autorità slovacche anche di verificare se non vi sia stata in qualche modo una distrazione di questi fondi che servivano per implementare tecnologie informatiche in quel paese, anche, voglio dire, a favore di questa acquisizione. Abbiamo accertato addirittura in un caso che attraverso la distrazione dei fondi, sostanzialmente l'Università Da Vinci, che aveva un credito nei confronti di una società maltese, sostanzialmente ha pagato il proprio credito con i propri fondi. Nella mattinata di domani, proprio in relazione agli ultimi sviluppi dell'inchiesta Minerva, ci sarà una conferenza stampa dei vertici dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, che esprimeranno la posizione ufficiale dell'Ateneo per bocca del Rettore Sergio Caputi e del Presidente della Fondazione Università Gabriele D'Annunzio, Luigi Capasso. Cosa succederà adesso all'Università? Adesso segnaleremo i fatti che abbiamo accertato al Ministero dell'Istruzione per i provvedimenti di alta amministrazione che sono di competenza delle strutture ministeriali. Di più non posso dirvi perché non rientra le nostre competenze.